Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli spinaci al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci freschi, acqua, succo di limone, sale, olio e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e un cucchiaino di sale. Chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con gli spinaci, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità a 2. Gli spinaci sono cotti, trasferire in una ciotola e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, adesso mettere l'olio, il limone, il sale e il pepe. Ed azionare i bimbi per 20 secondi a velocità 4. Versare l'emulsione sugli spinaci e servire. Spinaci al limone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.